eccoci qua quindi siamo ufficialmente in diretta ok anche oggi è un ottimo giorno per parlare di ordine e di riordino beh nel frattempo che qualcuno si connette ringrazio ok e do il benvenuto a tutte le donne che hanno fatto accesso al percorso scelgo me ok l'ultima è stata sirenis che carinissima mi ha scritto anche un sacco di cose stupende ok quindi la ringrazio moltissimo e ha descritto e ha detto proprio sono molto entusiasta e sono entusiasta di potermi affidare a te che trasmetti passione amore per il tuo lavoro ma hai anche una grande carica e grinta da vendere grazie sireni sono molto contenta che tu sia nel percorso scelgo me ok e sarà un percorso fantastico insieme vedrai e quello che dico sempre ma tutte sono un po timidine sono carinissime e io dico sempre che ce le descrivo così almeno quelle che entrano in gruppo e dico sempre leonesse li chiamo leonesse indipendenti perché la trasformazione no che ci sarà alla fine del percorso è quello di diventare proprio leonesse indipendenti quindi proprio forti coraggiose capace di prendere qualsiasi tipo di scelta ok senza aver paura di niente di nessuno e e quindi quando entrano nel percorso ok quindi per il percorso scelgo me c'è il gruppo riservato su facebook solo per coloro che sono nel percorso scelgo me e sono pazzesche adesso siamo a 10 già quindi in tempi brevissimi poi quindi pazzesco veramente complimenti a tutte le donne che hanno che hanno deciso di mettersi in discussione di mettersi in discussione capendo che doveva ripartire da se stesse e per ripartire da se stesse però doveva ripartire anche dall'ambiente in cui vivano e quindi hanno deciso e hanno scelto di fare ordine fuori e dentro di sé ok questo perché è un percorso che ti porta poi a riscattarti no a riscattarti come donna come lavoratrice come madre come moglie ok le donne che sono nel percorso scelgo me cercano questo cioè cercano appunto serenità cercano quella quel desiderio di riscattarsi di rimettersi in discussione ok per farlo però devono riscoprirsi devono conoscersi meglio nel per quando tu fai ordine ok hai la possibilità grazie agli oggetti che ti circondano che parlano di te di chi eri di chi sei oggi di chi sarai ok tu riscopri chi sei stato ti ricordi anche tuoi qualcosa che non pensavi di te ti eri completamente dimenticata ok è normalissimo è normalissimo perché quando siano tantissime cose si va un po in confusione è normale e ti porta a perdere un po a dimenticarti proprio i tuoi punti di forza a dimenticarti chi sei vanna una garanzia ecco vanna ad esempio che in diretta lei nel gruppo scelgo me grande vanna che per di più è stata anche la prima lei non lo sa però e ovviamente i primi non si scordano mai quindi ciao vanna e a tutti quelli che mi stanno guardando che però non vedo non so come si faccia a vedere la gente che entra o fa niente comunque un saluto a tutti ok come le altre dirette ovviamente si parla di ordine dell'importanza che l'ordine ha nella nostra vita ok quindi si passa un messaggio molto forte che è quello di mettere una volta per tutte ordine in casa ma capire che la casa che ci circonda è lo specchio della persona che siamo quindi quando non va qualcosa nella nostra vita ok c'è qualcosa ovviamente che la nostra casa ci manda dei segnali e il primo segnale è il disordine ok perché non abbiamo controllo nella nostra vita ne abbiamo controllo neanche in casa nostra nel momento in cui non riacquisiamo il controllo in casa nostra allora riacquistiamo anche il controllo nella nostra vita ok questo infatti è un percorso che ha una duplice un duplice risultato quindi quando fai ordine pratico non è fine se stesso perché quando è fine se stesso l'ordine non è duraturo non si ottiene un ordine duraturo l'ordine duraturo lo si ottiene quando l'ordine rappresenta quello step per ottenere un risultato un obiettivo per te importante nella tua vita che fino ad oggi non sei riuscito ad ottenere quello che dico sempre se fino ad oggi cercato di ottenere un risultato di raggiungere un obiettivo se non ce l'hai fatta ok poniti la domanda ma cos'è che è stato sempre presente nella mia vita costantemente come un'ombra un peso una palla al piede per tutta la mia vita anche quando ce l'avevo fatta ma poi sono ricaduta giù che cosa risposta il disordine è il disordine il disordine c'è sempre stato ok quindi anche quando tu dicevi andavano bene le cose cos'è che però non l'ha fatta andare poi bene per tanto tempo il disordine perché tu se sei disordinata non sei costante e quando una persona è al top ci deve rimanere ma per rimanerci ok di avere delle capacità che l'ordine ok ti insegna perché l'ordine è un sistema educativo che ti insegna ok tutte queste capacità necessarie per avere appunto una vita che è costantemente al top non è che così montagne russe perché anche in casa quando fai ordine poi si torna al disordine poi si torna all'ordine poi si torna al disordine così la tua vita fa così così perché tu fai l'ordine quando sei contenta ok quando stai meglio non è che ti metti a fare l'ordine quando stai male non te ne frega niente la casa quando stai male quindi quando stai bene inizi ok metti in ordine poi cosa succede si va giù non fai disordine sai su ordine ed è così la nostra vita è fatto da momenti di ordine momenti di disordine ok ovviamente il disordine ok quando non riesce non si riesce a controllarlo è un grande problema però adesso ci agganciamo al tema della live ok che è il fatto che appunto quando si è da soli ok è più facile riuscire a fare ordine ok e anche un po convivere nel disordine però certo fare ordine ci vuole molto meno però il problema ed è normale ok quando tu vuoi fare ordine e la tua famiglia le persone con cui appunto vivono in casa con te non non è che hanno tanta voglia di fare ordine ok che ci sta nel senso io quando ho fatto ordine pensate che la mia famiglia voleva fare ordine come me no assolutamente no mentre è stata ordinata loro erano ancora disordinati ma cos'è che bisogna capire che tu non puoi imporre niente alla gente perché tu non sei nessuno primo anche se sei sua madre ok rimani comunque nessuno per i tuoi figli ok se poi imponi qualcosa si sa i figli non ti ascoltano ok quindi quando tu vuoi insegnare qualcosa ai tuoi figli o essere un esempio ok devi esserlo tu un esempio perché se vuoi che loro facciano qualcosa che tu fino ad oggi non hai mai fatto ma perché i tuoi figli dovrebbero dire mamma c'è ragione adesso mi metto a fare ordine scusami perché dovrebbero ascoltarti se sei stato un disastro unico fino ad oggi quindi quando tu vuoi fare ordine e hai una famiglia che è un casino pazzesco primo non è colpa loro ma è colpa tua fisso perché i tuoi figli sono cresciuti ok con tu che li educavi e i tuoi figli sono cresciuti guardandoti perché per loro eri un esempio ma l'unico esempio che potevano avere in casa te tuo marito tua madre comunque i genitori ok nel momento in cui tu mostri che non butti mai niente accumuli tutto non guardi mai le cose gli scontrini li accumuli dappertutto che al posto di riordinare riorganizzi meglio le tue cose che al posto di riordinare ti metti a pulire casa ma è ovvio che poi i tuoi figli cosa fanno che al posto di riordinare puliscono al posto di riordinare riorganizzano meglio le cose non buttano niente accumulano vivono nel caos come ci vivi tu quindi non è che se un giorno tu ti svegli e capisci finalmente che l'ordine è importante e te ne sei fregata fino ad oggi è normale che i tuoi figli dicano ma scusami ma se fino ad oggi mi hai fatto così ma perché dovrei cambiare perché loro non lo sanno perché loro non capiscono quanto è importante fare ordine e tu sì perché tu hai fatto un click mentale ok che ti ha portato a dire se continuo vivo nel disordine non andrò da nessuna parte ok perché mi ruba tempo energia mi sono rotta le balle magari anche di stare appresso la mia casa direi sì ma tutto e questo ok non lo puoi imporre alla tua famiglia non lo puoi imporre l'unico modo è essere un esempio un esempio che dopo un po' diventa un'ispirazione quindi è bellissimo avere in casa ok una persona che ti possa ispirare ok su qualcosa che tu non avevi ancora ben non aveva ancora capito non c'era ancora arrivato però quando è che tu vedi che quella persona può essere un modello quando dimostra di essere ordinata in questo caso specifico per più tempo di una settimana e mezzo almeno oddio non è che può stare non è che può stare in uno dice faccio ordine seguitemi fate come me fate come me sì ma se proprio dopo una settimana siete tornate al disordine ma perché uno deve ammazzarsi per fare ordine se poi tanto non è duraturo ed è lì che bisogna andare quindi a capire che quando tutte mi dite e ma io c'ho una famiglia che non mi ascolta la mia famiglia disordinata o comunque ordinata a modo suo bla 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 dovete capire che in realtà non è colpa loro se tu non riesci a fare ordine cioè è troppo facile adesso dar la colpa agli altri la colpa non è loro non è loro la colpa se c'è qualcuna che mi sta ascoltando che ha questo problema mi faccia sapere con un commentino ok un intervento in live che mi dice un po la sua esperienza se è successo ok di avere una famiglia di percepire la propria famiglia che ti rimasse contro ma non è che lo fanno apposta non è che ti rimà contro la tua famiglia ti pare è che a te sembra così perché comunque tu vuoi che loro capiscano questo ma non lo capisco ma perché non lo capiscono perché non ci arrivano no è che non credono non hanno fiducia in te nel fatto che sia vero quello che stai facendo cioè l'unico modo di mostrarlo e se servirà un mese servirà un mese serviranno sei mesi serviranno sei mesi ma te sei disordinata perché lo sono disordinati ok o sei disordinata perché sei tu disordinata perché se tu vuoi essere ordinata lo sai anche se la tua famiglia non lo è io ero ordinata e la mia famiglia non lo era ok ogni volta dicevo quando loro si lamentavano io dicevo sempre e non trovo e io sei disordinata cioè non è che devi dire tanto tu mi metti la pulce la pulce no sei disordinata se tu non trovi le cose ci perdi tempo ti arrabbi perché non trovi il fatidico paio di calzini cioè mi devo il nervosi cioè io mi devo prendere il tuo stress perché tu sei disordinata e non devo prendere io rimani nel tuo stress i problemi sono altri non è un paio di calzini che non si trova quando tu inizi un attimo ad approcciarti all'ordine a vivere quindi nell'ordine ok loro vedono che tu per prepararti ci metti due secondi quando ti mettono a posto i panni vedono che il tuo casetto è una meraviglia luccica per quanto è bello ordinato ok che tutto bello lì e loro fanno a pensa che è una cosa che notavo che quando mettevano le cose nel mio cassetto le piegavano come al metodo in piedi me le mettevano perché è anche brutto metterli le cose buttate capito quindi iniziano a rispettarti e iniziano un po' a dover entrare nel tuo mondo ok una volta che iniziano ad entrarci anche loro ti chiedono ma com'è che fai mi fa vedere come si piega come che hai fatto bla 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 e poi quando ti chiedono aiuto tu li puoi supportare ok obbligare non si può obbligare perché più tu imponi una cosa più una persona non la farà mai ok è come quando magari sei piccoli e i tuoi genitori ti prendono le cose e te le buttano a terra per farti fare ordine perché c'è un casino nella tua stanza metodo inutile ok a me è successo mia madre mi fa fare ordine e prendeva tutta la roba che c'era la scrivania e me la lanciava a terra perché ero disordinatissima ma non avevo neanche spazio per mettere le mie cose e niente non era un bel metodo cioè nel senso non è educativo perché? perché poi cosa succedeva che io piangevo perché avevo paura che mi si avevano rotto qualcosa le mie barbie magari si era rotta qualche barbie o qualcosa capito? quindi in realtà ti fanno stare ancora più male e quindi tu cosa fai? metti in ordine perché ti ha fatto paura poi metti in ordine no? nascondi le cose e le butti dentro ai cassetti perché sai che loro quando arrivano non devono vedere niente le butti nei cassetti tutti buttate là ma secondo te è ordine? no quindi non è risolto se tu prendi le cose dei tuoi figli e le butti a terra e dici di fare ordine perché se loro non lo sanno fare non se lo possono inventare ok? nessuno nasce ordinato ok? quindi ordinati non si nasce ma si diventa ok? mi sembra che Totò avesse una frase del genere comunque su un'altra tematica era però fa niente e quindi se non si nasce ordinati non puoi pretendere dai tuoi figli che sono ordinati così bam! la magia la magia non esistono come quando mi dicono ma tu sei una maga? no come quando dicevano Sabrina quella che muoveva il naso e mette tutto in ordine no non sono io che faccio le magie bisogna capire che noi non abbiamo difficoltà enormi nell'imparare le cose perché se ne lasciamo che non sappiamo niente e c'è gente che diventano dei geni ci sono i geni le persone diventano ipercapaci in qualcosa e così semplicemente perché sono applicate ok? se sta cosa nell'ordine ti applichi non serve la Sabrina che muove il naso così no? non serve Sabrina non serve neanche io che ti dico così vengo lì a casa e faccio così perché non accade nel senso quando faccio anche io le consulenze non è che vado a casa loro e mi metto a fare ordine a posto loro io non sono una casalinga non faccio come si chiama le faccine domestiche a casa della gente che sei chiaro? il mio lavoro è ben diverso perché capita anche questo che uno pensa che faccia questo no non lo faccio a casa mia vengo a farla a casa tua cioè non è così quello che io faccio ok? è aiutare nel percorso quando tu hai degli ostacoli ok? perché tu mentre fai ordine ti blocchi ti blocchi è normale tu pensa che in una sessione quando faccio una sessione capita che una persona arrivi a prendere 2000 3000 scelte anche 5000 eh un botto il mio massimo il mio record è stato fare un monolocale in 5 ore e vabbè dopo era morto il ragazzo in questione era morto però cioè è normale però cavolo ha fatto una cosa cioè per voi è normale prendere 5000 scelte 400 quante ne volete all'ora in un'ora? al massimo una giornata quante scelte prendete? come vestirvi? cosa mangiare? che sta da prendere per andare in macchina? rispondono al telefono? cioè grandi domande devo dire grandi problemi grandi scelte scontate quindi non sono scelte ok? sono scelte di abitudini in realtà quindi non è che tu ti vai a porre veramente una domanda e ti dà una risposta reale ok? sincera quando tu devi fare ordine c'è sta cosa che tu devi chiederti il perché l'hai preso sulle cose facili come i vestiti anche lì se c'è gente che si blocca sui vestiti ma appunto perché? perché noi non siamo abituati a scegliere adesso non mi ricordo qual era quella parte del corpo dove si non mi ricordo se era qua comunque abbiamo una parte del cervello che è attrofizzata nelle persone che sono disordinate perché non sono capaci di prendere una scelta nella loro vita ok? quindi quando tu le fai fare questo percorso hanno spesso mal di testa occhiaie fino a qua in genere si sentono morti alcuni viene anche il vomito cioè sensazioni hanno mai avuto la febbre mi ricordo e questo avviene perché mentre tu fai ordine stai sforzando in realtà il tuo cervello al massimo ecco perché ritornando anche a una cosa che avevo detto nella scorsa live è sbagliatissimo fare ordine prima di mettersi a studiare ripeto è sbagliatissimo fare ordine prima di mettersi a studiare ok? perché tu vai a usare moltissimo il tuo cervello ok? e quindi c'è un dispendio di energie elevato quindi se poi tu devi mettersi a studiare infatti sei stanco non è perché è strano ok? perché tu in quel momento chiesti usando il tuo cervello benissimo ok? quindi il tuo cervello non è che sei cioè tu quando fai qualsiasi cosa c'è sempre presente il tuo cervello anche quando dormi ok? quindi quando tu fai ordine lo vai a sforzare tantissimo perché tu devi metterli a guardare ogni carta ogni cosa devi capire cosa c'è quindi inizia a magazziniare informazioni informazioni che in quel momento tu non devi magazziniare perché sono informazioni sbagliate perché tu devi magazziniare le informazioni che ti servono da studiare in quel momento ok? quando sei disordinati si scambia le priorità ok? questo è normalissimo scambiare le priorità cioè io devo studiare e mi metto a fare ordine bellissimo bellissimo non ha senso non ha senso mettiti a studiare e continui a studiare non mettiti a fare ordine perché sennò 10 o 30 non lo pigli non lo pigli ok? non lo pigli non ti lauri neanche in tempo ok? però se poi quando hai fatto l'esame è andato come è andato fai ordine ok? lo fai ti dedichi quel non ci vuoi tanto dipende da quante cose hai ti dedichi quel tempo due settimane un mese un mese e mezzo è il massimo dai se fai una categoria settimane è finita in sei settimane fai ordine cosa succede? che poi non devi più fare quella cosa che quando vuoi studiare devi metterti a fare ordine ce l'hai già fatto è già tutto ordinato non hai problemi tempo guadagnato perché non di più metterti a cercare le cose energia ovviamente di più riesci a studiare anche più a più tempo concentrazione che dura molto più a lungo ok? priorità se devi studiare studi non ti metti a fare ordine ma così non è solo l'ordine poi quando vai nella vita fuori non è se tu dici entro in un negozio e compri un maglioncino compri un maglioncino non compri otto maglioncini tre pantaloni ti fai rifare il guardaroba ok? e poi arrivi senza soldi a fine mese priorità era un maglioncino che poi la commessa ti venda tutto il negozio ok? e voglia che tu ti compra tutto oppure la nonna tu non lo devi fare perché tu dici guarda sei tentilissima ma io non ho spazio per queste cose la mia priorità era un maglioncino ok? capisco che tu mi vuoi vendere tutto perché tu devi arrivare alla fine giornata che hai incassato ma a me di te non mi interessa perché so che a te di me non ti interessa dallo stesso modo ok? quindi ti prendi un maglioncino e torna a casa bello felice quindi priorità quando sei disordinati le priorità cambiano frequentemente troppo frequentemente ecco perché la gente non si laurea in tempo ok? primo perché non c'è una scadenza primo cioè tre anni troppo troppo vago troppo vago sta cosa è impossibile cioè ecco ad esempio quando tu fai il liceo e così tu sai che ti devi maturare entro i cinque anni ma quando? entro il giugno che fai l'esame bla 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 non è che c'è un'altra possibilità o ti rifai l'anno e ho finita quindi la maggior parte della gente si matura quando c'è la laurea invece che sei indipendente ti lasciano a te stesso così boom non è che l'università tipo dice programmiamo la laurea no? facciamo un piccolo organizzazione per darvi dei tempi per aiutare magari giustamente all'università ti devono anche guadagnare sui ritardi della gente che non riesce a studiare giusto quindi se no come si mantiene l'università però è anche vero che uno studente ok può benissimo finire di studiare nei tempi cioè nessuno non è vero niente è impossibile ecco cioè ricordiamoci sempre che niente è impossibile il nostro più grande limite siamo noi stessi perché se c'è gente che lo fa entro i tempi ok e moltissimi lo fanno fuori dai tempi non è che se tutti sono fuori tempo ok allora vuol dire che va bene è come come tutti sono disordinati allora va bene cioè non ha senso non ha senso pensarla così perché il disordine è un problema ok e il fatto che tutti convivano con il disordine ok non sminuisce il problema lo ingigantisce deve essere risolto ora vuoi risolverlo? ti do la soluzione io cosa ho fatto? in Italia nessuno ne parla benissimo quindi quello che io ho fatto è stato proprio creare ok un videocorso gratis dove insegno e do tutte le informazioni basi sull'ordine adesso ve lo metto qua nel link qua sotto lo guardate in Italia nessuno ne parla ma l'ordine è la base è fondamentale ma perché è fondamentale? ma il disordine che benefici ha? nessuno anche quando dicono che i bambini sono più creativi ok poi serve l'ordine per avere spazio ok per dare spazio a questa creatività comunque di svilupparsi ok quindi se il disordine non ha effetti benefici ora ditemi perché ci dobbiamo convivere? apro parentesi quindi perché se tutti quelli che si laureano non ce la fanno nei tempi ok deve andare bene non va bene non va bene non va bene quindi bisogna andare a risolverlo perché allora quelli che ce l'hanno fatta prima perché la gente che se li si esce a laureare in tempo e alcuni anche prima dei tempi mistero non è un mistero misteri sono altri e qua lo svegliamo il mistero ok praticamente hanno una priorità fissa e costante nella loro mente e hanno in realtà senza quando tu gli dici ma come hai fatto non lo spiegano ma in realtà è perché hanno una data hanno già un pensiero di un tempo entro il quale devono finire ok hanno una data ok un evento ok qualcosa che vada a stabilire la fine di quei tre anni di cinque anni quanti cavolo anni sono di studio ok se tu non hai un obiettivo non vedi la fine non lo finirai mai è come quelli che iniziano a fare ordine non hanno l'obiettivo ok entro quando finirlo perché finirlo e l'ordine si protrae per tutta la vita quindi disordine in realtà la stessa cosa quando tu studi devi avere una deadline cioè non è che puoi vivere così ovvio che poi sei in ritardo e poi c'è la paura la paura che l'ultimo ti manca l'ultimo esame e c'è la paura che ti bocciano perché se no la laurea ti rimane di due mesi ma è colpa del professore che non ti promuove o è colpa tua che hai rimandato quando non dovevi hai sbagliato per un istante forse per un po' più di mesi hai scambiato le priorità se scegli di studiare è un impegno che prendi e segui se scegli di fare ordine è un impegno che prendi che poi segui ma perché uno deve farlo ma perché se hai scelto un motivo c'è quindi vuol dire che in realtà è una cosa che ti rende felice quindi protrarre diventa poi un'agonia non protrarre tutto questo non farti del male laureati fai ordine fai quello che vuoi ma fallo non pensare così non è che arriva da solo cioè non è che l'informazione arriva nel tuo cervello così ma come non arrivano da nessuna parte ma anche l'ordine nessuno te lo insegna nessuno ti insegna a fare ordine ci sono io però ok quindi nessuno te lo insegna in Italia nessuno ne parla perfetto quindi cosa facciamo creiamo un modo ok per dare informazione alle persone quindi con il link che ti ho dato che è nei commenti hai la possibilità di capire perché l'ordine ok ha un potere straordinario nelle nostre vite quindi quali sono tutti questi effetti benefici e positivi che ha l'ordine nelle nostre vite in ogni settore della nostra vita qui analizzo proprio settore lavoro successo successo lavorativo salute relazioni amore soldi questo è molto interessante perché il disordine ti porta è un disastro il disordine è catastrofico il disordine non ha effetti benefici ma nessuno ma proprio nessuno cioè nel senso proprio quando le persone ti dicono eh ma questo non va bla 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 sappi che sono anche disordinati in casa sicuro infatti la casa in cui vivi lo spazio la camera adesso ognuno ha lo spazio in cui vive è veramente lo specchio della persona che sei ok quello che io dico sempre è quando tu ti guardi attorno in casa tua cos'è che vedi il peggio vedi il peggio di te il disordine non è il meglio di te non è il miglior lato di te è il peggior lato di te che è dato da stress mancanza di tempo mancanza di energia confusione mentale cambia le priorità mancanza di costanza mancanza di disciplina disciplina io intendo proprio quella cosa di dire no non siete capaci di dire no così come siete capaci di dire no quando siete in giro e comprate e spendete i soldi anche solo magari non so anche tipo hai un obiettivo tenere i soldi da parte per un viaggio per non lo so magari sei un fotografo per la tua attrezzatura sei uno sportivo e magari vuoi andare a fare uno stage importante non lo so un campionato un torneo in estate ciao fiore questi questi obiettivi per raggiungerli devi dire no a qualcos'altro per dire sì a quello ogni volta che tu dici no a qualcosa o qualcuno ricordati sempre che tu non è che ti stai sei di ciao Lucia ah Lucia ho letto la tua mail grazie mille sia per il consiglio e per quello che hai detto prima per i ringraziamenti tutto davvero mi ha fatto tanto tanto piacere ok stavo dicendo che mi sono persa che praticamente comunque stavo dicendo che praticamente qualcosa se qualcuno mi ricorda cosa stavo dicendo ciao fiore qualcuno mi sta ricorda cosa stavo dicendo io riprendo volentieri il discorso comunque la specchio della persona che sei e peggio di te vabbè nel frattempo quando qualcuno mi ricorda cosa stavo dicendo mi sono persa se quello che sto dicendo comunque concordate condividete ok condividete la live alla fine quello che dobbiamo trasmettere ok un messaggio importante dobbiamo trasmettere in italia perché non possiamo sempre essere l'ultimo paese che arriva su queste cose ok dobbiamo trasmettere questo messaggio ok per persone possibili ok che l'ordine è importante ah ecco cosa stavo dicendo non lo so ricordato che l'ordine è importante l'ordine è fondamentale che il disordine non ha nessun effetto benefico ok quindi se concordate con questo se condividete questo pensiero ok anche vediamo qua ci abbiamo Fiore e Vanna Fiore e Vanna anche voi condividete fate sapere condividete questa cosa perché è importante la missione proprio Daniele allora quello che è importante dire ovviamente che ci sono casi ok che ovviamente devono essere affrontati magari non da ad esempio io non ho non tratto persone che hanno delle sindrome ok ad esempio lì ci servono delle persone specializzate dottori adesso non me ne intendo che ovviamente vadano ad aiutare la persona ok conoscendo il problema nel modo migliore possibile per aiutarlo ok a risolvere la problematica del disordine ci sono persone che hanno una malattia ok e quando si parla di malattia non si può ovviamente pensare ok di andarla a risolvere senza degli aiuti ok quindi io non parlo ok mi riferisco a persone ok che hanno che sono disordinate ok ma che non è una malattia ok non soffrono di una malattia di accumulatrici seriali o cose del genere questo è importante quelli sono casi che devono essere affrontati da persone specializzate ok che conoscono la malattia la sindrome e possono risolverla ovviamente io vi tratto a persone che ovviamente sono persone che non hanno questi problemi così grandi ok e che semplicemente dato al fatto che non sanno ok avere il controllo sulle proprie cose quindi è un po' in realtà sono influenzate ok dal consumismo che c'è oggi nella società ok quindi il consumismo ok ci porta a dimenticarci però che l'ambiente in cui viviamo deve essere un ambiente vivibile va bene quindi nel momento in cui noi compriamo però senza controllo e ci dimentichiamo quello che avevamo già in casa succede che noi creiamo disordine disordine perché non abbiamo controllo perché non abbiamo tutto sott'occhio non vediamo cosa abbiamo in casa ma non ce ne ricordiamo neanche perché noi quando andiamo a comprare se sbagliamo ok quindi compriamo qualcosa due volte ce l'avevamo già e così spendiamo dei soldi che potevamo risparmiare potevamo benissimo se avessimo avuto ordine guardando le cose che avevamo in casa noi memorizziamo ok i nostri occhi memorizza abbiamo la memoria visiva quindi noi memorizziamo tutto non necessario mettersi là due maglioni due magliette cose noi una volta che guardiamo apriamo il nostro guardaroba ok guardiamo veramente le nostre cose se siamo ordinati perché è tutto a vista non è tutto accumulato messo là le persone non hanno un metodo sì infatti esiste un metodo quindi quando io per approfondire tutto esatto hanno un metodo sì sì non ce l'hanno un metodo comunque perché non si nasce ordinati come ho detto prima non si nasce ordinati però c'è un metodo che aiuta le persone a fare ordine in modo duraturo e definitivo ok io quattro anni fa ho fatto ordine ok io sono una consulente con Mari ok quindi io insegno il metodo con Mari il metodo con Mari non lo può insegnare chiunque bisogna certificarsi andare a Londra oppure in America se uno ci vuole andare fino all'America andare a Londra da Mari Kondo ok che è la lei è la creatrice del metodo con Mari ok e solo Mari Kondo ok ti può certificare quindi o vai a Londra una volta all'anno fanno questo evento oppure non puoi insegnarlo ma perché perché non è il semplice metodo quando tu entri in casa delle persone bisogna sapere che c'è un impatto sulla vita delle persone quando tu entri in casa loro e insegni loro a fare ordine perché l'ordine è importante ma bisogna saper aiutare veramente le persone senza quindi diciamo molti dicono ma tu non mi devi dire cosa devo eliminare o cose del genere no 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 io ok non dico nessuno cosa devono eliminare assolutamente no sono le persone che scelgono però spesso hanno semplicemente bisogno di supporto ok e sapere come capire ok quando quella cosa è inutile quando quella cosa è utile perché come ho detto prima ok non siamo abituati a prendere scelte ok non siamo abituati a prendere tante scelte una dopo l'altra in un'ora si arriva a prendere anche 500 scelte per dire quando uno parte esempio con i vestiti ok se fai l'intera categoria o così in tre ore ha preso anche 500 600 scelte sono una quantità enorme a cui noi non siamo abituati ok questo è importante per questo ok noi ad esempio i metodi proposito di quello che hai detto tu da fuori insegnano tanti metodi ok ma non è che non siano giusti può essere va bene ma quello che quello che poi uno dice è sbagliato ok che è la pecca è che non è duraturo l'ordine che si crea con quei metodi invece col metodo con mari l'ordine è duraturo per sempre ok è testato su di me su migliaia di persone in tutto il mondo ok che hanno attuato quindi quando da fuori ti dicono ad esempio ogni giorno butta qualcosa si aspetta aspetta ogni giorno butti un calzino ogni giorno butti una roba non finirei mai non finirei mai perché perché tu mentre un giorno togli una roba magari il giorno dopo ne compri due cosa è cambiato? niente quindi sì serve un metodo e serve qualcuno che te lo insegni ma come in tutto ok ci sta che una persona non sappia fare ordine come ci sta che una persona non sappia saltare la corda cioè io ho un sacco di amiche che non sanno saltare la corda ok va bene non è che è impossibile uno ti mette là ti insegna piano piano insegna anche tu saltare la corda ma perché la portata di tutti saltare la corda ma come la portata di tutti essere ordinati casi estremi no ok lì servono degli aiuti specifici dottori psicologi ok ma il disordine quando è creato perché ok non si compra male non si gestiscono le cose non si ha un metodo lì bisogna intervenire ma perché ma perché tutti possiamo essere ordinati ok nel momento in cui siamo consumisti è ovvio che abbiamo dei problemi purtroppo cioè non possiamo farci niente siamo influenzati negativamente ma dobbiamo proprio cercare di sapere che se vogliamo cercare di fare questo di mantenere questo ordine dobbiamo dire no a qualcosa dobbiamo dire no a tutto questo ok quando una persona è ordinata impara a dire no impara a dire no quando compra ma anche fuori l'ordine lo specchio della persona che sei quindi se tu accetti di convivere con il disordine per pigrizia ok qua parliamo non di malattia ma di pigrizia capito Daniele parliamo di pigrizia cioè nel senso che tu non rimetti a posto le cose perché non c'è voglia ok e quindi si crea disordine perché tu quando compri le cose non ti ricordi quindi esageri cioè sono proprio errori di pigrizia che si creano che tu puoi benissimo cambiare ma perché? perché si tratta di abitudini cattive abitudini che devono essere cambiate ok queste cattive abitudini le creiamo in casa per di più perché facciamo quello che vogliamo ok ma non sappiamo che facendo quello che vogliamo in casa nostra ci facciamo del male perché? perché ad esempio noi vorremmo avere dello spazio in casa per poter studiare per poter non lo so fare ginnastica ok è nostro diritto in casa nostra avere lo spazio ok per poter fare quello che vogliamo ma in modo tranquillo sereno senza stress ok non dobbiamo non rincorrere le nostre cose a nostra casa a vivere per la nostra casa la nostra casa ci deve aiutare la nostra casa ok ci deve aiutare ok nel nostro stile di vita da riuscire a non perdere tempo ma a guadagnare tempo a essere più veloci da non spendere tutte le energie a fine giornata per metterla a posto ok tutto questo capita nel momento in cui sei disordinato ok che tu rincorri la tua casa rincorri la tua vita come rincorri la tua casa le tue cose alla ricerca sperduta ok di quello che sono le tue cose in casa ma così anche fuori rincorri il tempo non hai mai tempo per fare tutto in quella giornata ma così come fuori anche a lavoro quante volte diecimila pratiche da fare e non ne porti a termine neanche una ok perché non c'è un metodo non c'è un metodo facciamo dieci cose insieme e ne terminiamo mezza ok e anche quando fai ordine se inizi a fare ordine a riorganizzare a pulire fai tre cose ma le fai tutte al 30% ok quando tu riordini riordini prego prego riordini ok non fai non riorganizzi le cose non non pulisci casa riordinare non vuol dire questo è come quando ecco perché io dico quando vado faccio le consulenze ok ma ti pare che io vado a pulire casa la gente ma guarda che se c'è il cassetto sporco se lo pulisco loro ma perché ma perché ma perché devono vedere ok devono avere un impatto innanzitutto di quanto si sono trascurati questo prima cosa e poi pulire quello se mi rendono conto ok di quanto hanno fatto schifo negli ultimi anni quello sono step che devono affrontare loro e il fatto che io sia lì ovviamente a loro crea ancora più imbarazzo però una persona che non ti giudica ma è lì per farti capire ti aiuta e ti fa capire quell'errore ok l'hai fatto fa niente sei umana sei umana sei umana anche io mi dico che schifo nel senso normale però quando tu capisci lo affronti perché più in poi devi affrontare queste cose ti vergogli di te stessa va bene però una volta che hai pulito hai visto che c'era lo schifo ora non c'è più buona da quel momento in avanti non si creerà mai più una roba del genere l'ordine è un evento l'ordine capita una volta in la vita lo si fa una volta in la vita ogni giorno stiamo a riordinare casa come ho detto ieri e ho detto non si fa questo tutti i giorni io non riordino tutti i giorni il massimo di tempo che spendo è 30 minuti a settimana e quando non ne spendo 30 minuti a settimana ed è molto spesso che io non spendo 30 minuti a settimana sinceramente per riordinare le mie cose al massimo anzi me le riguardo e dico magari c'è qualcosa da togliere cioè faccio un attimo cernita anzi al massimo assi ho un po' di tempo è da guardarmi un po' vediamo se c'è qualcosa che magari non è più qualcosa che mi dà gioia ma altrimenti non si passa la vita a riordinare cioè il mio messaggio è questo noi dobbiamo vivere la nostra vita pensando che la nostra casa ci deve essere d'aiuto non ci deve ostacolare non deve essere una palla al piede cioè che quando entri a casa c'hai veramente le mani nei capelli se c'hai capelli se non c'hai capelli ti rimetti in altre parti insomma è così non la nostra casa ci deve aiutare non deve essere d'ostacolo d'intralcio poi il disordine porta anche tante distrazioni tante distrazioni è per questo che quando ci poniamo un obiettivo facciamo fatica a perseguirlo per tanto tempo perché abbiamo una casa piena di cose che ci danno tanti stimoli di qualcosa anche di desideri e sogni passati e pensiamo sempre che quello che siamo stati lo siamo anche oggi ok in realtà se tu sei stato qualcosa hai avuto un sogno da piccolo qualche anno fa sognavi di fare qualcosa vivi un obiettivo adesso non c'è più non c'è più sei cambiato sei cambiata ed è questo il bello noi cambiamo ok l'ambiente attorno a noi deve cambiare insieme a noi quindi se oggi è un nuovo sogno ok la tua casa ti deve parlare ti deve sempre ricordare chi persona vuoi essere domani quindi molto spesso in nostre case abbiamo tanto la presenza di chi siamo stati tantissimo tanto spazio diamo tanto spazio tanta importanza al passato però il passato è passato anche se hai fatto qualcosa di male se hai un rimpianto qualcosa ormai è passato non puoi tornare indietro e rimediare per questo bisogna invece dare spazio ok innanzitutto a chi siamo oggi ma da avere spazio in casa per chi vogliamo essere ok perché noi abbiamo commesso un errore non lo commetteremo più va bene però diamoci la possibilità di riprovarci diamoci la possibilità di avere un'altra opportunità ok e di non continuare a essere pesanti su quello che siamo stati su quello che non c'è stato noi abbiamo questa cosa di mi ricordo che ho letto da qualche parte che le persone a un certo punto della loro vita quello per cui sono dispiaciute o hanno diciamo sono sentito infelici non è per quello che hanno fatto ma è per quello che non hanno fatto nella propria vita quindi quando uno dice fai ordine è proprio questo non avere rimpianti ok e neanche rimorsi perché tu ti poni tanti limiti dove il più grande limite di te stesso sei solo tu ok noi non abbiamo limiti non niente è impossibile proprio perché vediamo attorno a noi persone che ce la fanno ok e se tutto è possibile non vedo perché noi dobbiamo inventarci che la scusa per cui non possiamo fare ordine è perché non ho tempo è perché non ho la mia famiglia non mi aiuta non mi sostiene come nel tema di questa live sono scuse non è per me non ce la posso fare ma di cosa stai parlando le cose difficili impossibili non esistono cose impossibili raga le cose difficili nella vita sono altre ok e quelle cose difficili vengono ogni giorno fatte tipo io penso che sia più difficile ok fare un'operazione chirurgica vivere un'operazione chirurgica fare un parto ogni secondo nasce un bambino nel mondo cavolo dovrebbe esserci che ogni secondo c'è una persona che sta facendo ordine e sta trovando la propria felicità io credo quindi quando noi siamo così abbiamo tutti questi limiti nella nostra mente che pensiamo che non possiamo non possiamo non possiamo in realtà cioè non è che è l'ordine che non riesci ad ottenere è che in realtà tu fino ad oggi tante cose non hai ottenuto e quindi tu pensi ok che non sei all'altezza di niente in realtà l'ordine ti fa proprio riscattare da questo punto di vista perché ti fa vedere se tutti sono disordinati calcolando che il 90% della popolazione mondiale è disordinata ok e il 10% è ordinato ok ma quel 10% di persone ordinate ci è diventata poche cioè ci sono persone che nascono che capiscono subito ok ma hanno una mentalità perché è tutta una cosa mentale ok quello che bisogna capire è che il disordine si è diciamo ci mostra ok il peggio di noi quindi quello che non va la nostra confusione la mancanza di priorità le cose che cambiano noi che cambiamo in continuazione ok che accumuliamo anche i nostri cambiamenti non facciamo spazio ah ciao Jessica un piacere allora sei qui per la prima volta e niente oggi il tema della diretta è capire che la famiglia ok quando vogliamo fare ordine la famiglia non è un freno ok è una scusa è una scusa perché in realtà se la tua famiglia ok è disordinata ok non è che se lo sono disordinati per caso ad esempio se tu sei madre e hai dei figli lo sono disordinati perché tu sei disordinata loro hanno imparato da te ok quindi se hai domande a riguardo ad esempio se per te c'è un ostacolo c'è un ostacolo che non ti permette di fare ordine ok qualcosa del genere scrivimi pure nel commento un commento e vediamo di aiutarti ok a smontare qualche di questi limiti che abbiamo appunto stavo proprio dicendo che il più grande limite di noi stessi siamo proprio noi ok quindi non ci sono limiti ciao Rosalia Rosalia sì ciao e quindi quando io dico tutto questo dico che l'ordine è importante è fondamentale nella nostra vita è per questo che io sono qui ora a a diffondere un messaggio ok la mia missione è proprio quella di dire alle persone fare ordine è possibile è alla portata di tutti il disordine non ha effetti benefici solo negativi e catastrofici l'ordine ha solo effetti positivi il fatto che il disordine anzi il fatto che le persone siano tutte disordinate è un problema ma il fatto che lo siano tutte non diminuisce il problema ma lo rende più grave è importante agire ora fare ordine adesso da questa cosa io ho detto però giustamente c'è tanta disinformazione a riguardo quindi cosa ho fatto io ho creato ok un videocorso gratis nel quale approfondisco appunto delle tematiche molto precise che vanno a rispondere a tutte le domande che ognuna si pone ok quindi l'ho messo nei commenti se qualcuno è interessata è nei commenti il link ok cosa succede in questo videocorso gratis cosa accade io lo tratto in modo molto approfondito ok dando delle basi basi perché è importante avere almeno delle basi di conoscenza riguardo a questo argomento prima di tutto si va ad analizzare gli effetti benefici benefici e positivi ok straordinari che l'ordine ha nella nostra vita quello che invece non ha il disordine quindi vado ad analizzare settore per settore lavoro successo lavorativo benessere fisico ok amore relazioni soldi poi la tematica successiva è capire quali sono quegli errori comuni ok che tutte le persone commettono quando cercano di fare ordine ma subiscono effetto boomerang quindi ritornano al disordine quindi cosa vuol dire tutte le persone capiscono che a un certo punto c'è troppo casino e devo mettere a posto ma appunto mettere a posto non è fare ordine è mettere a posto non è fare ordine quindi quello che io ho fatto è stato andare proprio a spiegare quali sono i tre errori comuni che tutti commettono ok in modo da dire se vuoi fare ordine non fare questi tre errori perlomeno perché se no torni i punti a capo ok poi altra tematica è capire quali sono quei falsi miti ok che ci sono sull'ordine tipo la mia famiglia mi rema contro tipo l'ordine non è la mia portata non ci lasciamo ordinati ok quindi capire perché uno dice questo poi cambio stagione un altro falso mito tutti i persone disordinati hanno il cambio stagione piazzatevelo nel cervello se volete sapere il perché andate a vedere nel link vi svelo il perché quindi io non ho il cambio stagione tutte le persone che sono ordinate non hanno il cambio stagione questo per direvi poi che il disordine è uno spreco che si butta oh mio dio tu fai buttare le cose alla gente tu butti io non butto niente prima cosa come ho detto prima io non butto sono le persone che eliminano ma non eliminano neanche perché io dico sempre lasciamo andare le cose ma cosa succede quando tu fai l'ordine in realtà fa anche del bene quindi un altro effetto negativo che tutti dicono ma è uno spreco perché butti in realtà come ho detto ieri nella live che ieri parlavo dello spreco ok se siete interessati a guardarvi ieri la live ok leggiamo esatto vedi Jessica ad esempio molte persone non sanno da che parte iniziare questo è normale è normale perché giustamente ma anche io sapevo da che parte iniziare iniziamo sempre la parte sbagliata questo è sicuro e quando appunto sicuramente anche te commetti appunto degli errori ok e per questo ti consiglio veramente di andarti a vedere appunto questi video ok sono 4 un'oretta quasi di videocorso che ti insegna veramente tanto ok e ti fa capire anche gli errori che tu commetti come ho detto prima gli errori tu capisci anche quali errori hai commesso ok perché quando si fa ordine ok c'è bisogno di essere ordinati anche nel processo mentre si fa ordine per non perdere energia per non deconcentrarsi soprattutto perché se mentre fai ordine organizzi meglio le cose o pulisci non è ordine ok comunque lo spiego molto bene ok in questo videocorso poi falsi miti vi ho detto che si vanno a sfatare tutti questi falsi miti ad esempio che ordine vuol dire appunto buttare ma non è così assolutamente andate a vedere le live che ho già fatto non è così poi che cos'era un altro che l'ordinare è minimalismo ah no ecco ieri ho parlato di perfezionismo due giorni fa ho parlato di buttare quindi sono due live perfezionismo non l'ordine non è perfezionismo ma è equilibrio equilibrio fra te e la fra presenti gli spazi che sono adatti a te per vivere e gli spazi per vedere le tue cose ma anche ok fratele le tue cose adesso te lo metto guarda dove sei qua ma anche lo spazio che c'è ok te l'ho linkato te l'ho scusami commentato adesso dovrebbe apparirti ma anche tra lo spazio che c'è tra le tue cose e i tuoi spazi cioè nel senso non è che in casa tua ci sono prima le tue cose poi ci sei tu non è che tu devi rincorrere le tue cose quello che dico sempre mentre fai ordine capisci che al primo posto ci devi essere tu tu sei la priorità ok quando fai ordine capisci che l'unico modo per gestire le tue cose è che tu sia il controllo a capo di tutto ok quindi se tu nella tua casa perdi tempo a cercare le tue cose perdi tempo a spostare le tue cose spostare le tue cose ogni volta che ti serve una scrivania un tavolo una sedia devi spostare ogni volta che devi pulire casa devi spostare e lì d'odore di schiena lasciamoli stare ok quindi quando tu rincorri le tue cose rincorri la tua casa quindi sei tu capito che vivi in funzione della tua casa vuol dire che sei arrivata già al limite non c'è bisogno di andare ancora avanti devi fare ordine adesso ma perché ma perché devi riacquistare ok quel controllo perché così come tu non hai controllo sulle tue cose non ce l'hai neanche nella tua vita non ce l'hai neanche nella tua vita sei sommersa sommersa non riesci a gestire quindi poi non hai tempo non hai energie sei stressata ansiosa non ce la fai qualcosa non è andato ti sei dimenticata della bolletta poi ti arriva la mora e quello e quell'altro come quella che ciao patrizia come come quella volta che ho sentito questa questa donna che mi ha detto è volevo vuole tanto fare ciao sireni se sei ascoltare che c'è ti ho fatto anche ti ho dato anche il benvenuto all'inizio ti ho ringraziato all'inizio della live sireni se è entrata nel percorso scelgo me proprio oggi quindi complimenti lei ha scelto di fare ordine una volta per tutte fuori e dentro di sé ok e quindi complimenti veramente io sono molto contenta ok quando ci sono le mie io le chiamo le onesse le onesse perché il percorso io dico sempre che il percorso di riordino porta a ciao Sonia ciao porta a diventare delle onesse ok le onesse indipendenti le chiamo tutte così quindi quindi quello è il percorso ok bene sono contenta quindi questo è il percorso ah non è finito comunque il percorso appunto quello che vedo corso gratis poi cosa succede dopo che vi ho visto i falsi miti ok che sono tanti andiamo finalmente a capire quali sono però i tre segreti qual è il metodo ok che ha permesso a me e altre migliaia di persone di fare ordine una volta per tutte nella propria casa e nella propria vita ok quindi questo è il videocorso è completo ti dà le basi di tutto ok ma è un'informazione che secondo me è fondamentale nel momento in cui in Italia siamo sempre gli ultimi a capire le cose allora io credo che tutte le donne ok debbano avere la libertà ok di avere tempo energia e obiettivi che non siano stare dietro alla casa cioè non è possibile che noi le donne perché poi sono sempre le donne quindi fate fare qualcosa ai mariti se avete dei mariti ok devono stare a casa a pulire a riordinare a fare le faccende così no le donne ok devono avere anche altro ok e una volta che tu fai ordine avrai molto più tempo per te e riuscirai a gestire non solo la tua casa ma ad avere anche successo nelle aree che io analizzo nel videocorso gratis e dico successo nel lavoro benessere fisico relazioni appaganti amore un amore vero che ti dia qualcosa perché molte donne sono sole ok e poi soldi finalmente soldi a fine mese più soldi a fine mese l'ordine ti porta ad avere più soldi a fine mese è vero così è non c'è niente da fare chi entra in scelgo me a fine mese ha più soldi di quando è entrato ok è sempre così perché? perché ci sono delle regole ok c'è una disciplina che io insegno ok ma perché tutto questo? ma perché semplicemente in quattro anni ok che penso solo a questo e l'ho provato sulla mia pelle ho fatto le consulenze ho aiutato altra gente cos'è che ho capito? che c'erano degli errori che commettevo io fissi che non mi permettevano di essere però quell'ordine che io volevo duraturo 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 ok quindi ho studiato quello che erano i miei errori ho trovato le soluzioni e poi ho fatto un percorso ok anche personalizzato dove già sono hanno fatto già accesso dieci donne ok in tempi veramente super lampo quindi sempre complimenti a tutte voi e adesso sta facendo ordine c'è c'è una donna che nel percorso in due settimane ha fatto tre categorie ovvero quindi vestiti libri carte in due settimane e mezzo cos'è? per sé per i suoi due figli in tre settimane è un razzo c'è adesso un'altra che ieri ha pubblicato e ha messo ha fatto i vestiti e ha finito già le carte quindi è già tre categorie in una settimana quindi cosa serve molte volte? una persona che ti dia ok delle istruzioni e un percorso senza ostacoli anzi che sia liscio il più possibile infatti queste donne io le seguo le supporto con il gruppo riservato ok scelgo me dove pubblicano io vedo do consigli supporto e poi ogni volta che si raggiunge un piccolo obiettivo del percorso bisogna sempre sempre celebrare sempre perché? perché quando tu fai ordine ok calcolando che il 90% della popolazione mondiale è disordinata veramente tu dici cavolo io sono un guardaroba invidiabile cioè senza andare troppo in là che poi c'è quello di che è un genio va bene se fare la matematica complimenti ok complimenti però dai le basi ma le basi del vivere le basi almeno quelle cioè devono essere portate di tutti tutti dovremmo essere ordinati senza grandi problemi quindi quando tu c'è un guardaroba che dici oh sono soddisfatta poi vai in casa mi riesco a camminare in casa senza ostacoli non è una corsa ostacoli perfetto non perdi tempo quando cerchi le cose perché le cose le vedi subito torni a casa che sei felice è il luogo dove tu sei più dove ti senti assicuro e serena la casa deve essere questo ok serenità tranquillità questo deve essere una casa e poi deve essere deve essere la tua insicurezza più grande la vergogna cioè se tu chiedi io avevo letto ho sentito una volta in radio che la cosa più difficile ok che le persone dicono di non saper fare al primo posto c'è scrivere un tema in italiano al secondo posto è fare una valigia è fare una valigia ok la cosa più difficile per gli italiani al secondo posto è saper fare una valigia ok quindi io direi che si potrebbe benissimo portare al secondo posto cose veramente più complesse ok saper fare una valigia cosa serve per saper fare una valigia saper essere ordinati ok tutto questo è la base dell'ordine nel momento in cui tu fai una valigia esempio perdi un sacco di tempo io quando faccio una valigia cosa faccio l'unica cosa che devo fare è prendere la valigia prendiamo la valigia con le rotellini fa un sacco di casino la metto sul letto ok e inizio a dire magliette apro il cassetto delle magliette le guardo scelgo ma come voglio vestire vabbè prendiamo quella bianca quella verde presa messa in valigia così è prese e messe in valigia pantaloni ok dai due pantaloni prendo e metto in valigia siamo sempre là eh non è che ho preso piegato sono già piegata non devo fare niente poi un vestito vai vado apro il guardaroba guardo la roba si chiama così per un motivo rendiamolo vero questo guardaroba non è che dobbiamo farci le emoti con le gif guardaroba e c'è il mostro ok che non vedi niente oltre il buio oltre la siepe guardaroba vedi le cose le vedi ok quindi tu scegli il tuo vestito perfetto lo prendi lo pieghi lo metti in valigia cosa manca le scarpe scarpiera sono tutte là non è che sono dentro alle scatoloni chissà dove nascoste sono lì sono lì le scarpe le vedi prendi il paio le metti in una sacchetta le metti in valigia cosa manca beauty vai in bagno prendi un beauty che è nel porta dove c'è una scatola con tutti i beauty dentro prendi il beauty vai in bagno dedorante chiudi metti in valigia asciugamano vai a prendere il parto asciugamani apri asciugamani prendi asciugamano metti in valigia quanto ci avrò messo secondo voi poco molto poco molto poco quindi mi posso concedere il lusso di fare la valigia anche all'ultimo minuto che poi l'ultimo minuto non è però ad esempio posso fare la mattina stessa che devo partire non devo per forza farmi mi ricordo che i tempi quando dovevo partire facevo tipo un giorno prima ma perché dovevo mettermi a scegliere tutti gli outfit provarli per vedere se stava bene se stava male cosa portare ora non devo più provare niente perché quello che ho so che mi va non è che mi devo mettere a provare la camicia se certo sì io sono una consulente con mari Jessica quindi quello di cui io parlo esatto è il metodo con mari quindi ho studiato direttamente la maricon sono andata a Londra ok al suo primo seminario in Europa che è stato due anni fa sì due anni fa ormai ormai quanto tempo è passato e mi sono certificata ok e quello che io insegno è il metodo con mari il metodo con mari non lo può insegnare chiunque soltanto chi si è certificato è nato da lei e ha studiato perché per fare il metodo con mari non si deve leggere solo il libro e poi il libro non basta ad esempio ho fatto una ricerca ma ti ho testata perché ho sentito un botto di gente nell'ultimo mese ok molte hanno letto il libro e una ma una su dieci ah che meraviglia ah ti piace bene bene comunque sì quando vai a vedere se tu vai a vedere ad esempio il videocorso capirai appunto che io parlo del metodo con mari assolutamente sì 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 è così e il metodo con mari non lo puoi insegnare chiunque ok perché non è che tu leggi il libro e lo insegni cioè ah grazie Dani per il mi piace cioè non è che tu così non esiste nel senso ma sei da 4 anni che ci lavoro non è proprio così cioè Marie Kondo ha passato una vita ha passato tutta la sua intera vita praticamente 19 anni poi ha capito ha creato il metodo con mari ma ha 19 anni a capire perché lei era disordinata 19 quindi e ha spopolato in tutto il mondo quindi cosa vuol dire sì che se spopola qualcosa forse risponde a un bisogno vero nelle persone ok quindi veramente noi abbiamo bisogno di fare ordine in casa e nella nostra vita ok e poi l'ordine ha solo effetti benefici e positivi come dico sempre ok il disordine non ne ha neanche uno benefico quando dico lo dico sempre perché anche quello che dicono è creatività è creatività però a me piace avere il calzino fuori posto mi rende felice ma guarda ma se te ti rende felice il calzino fuori posto va bene eh non è che va male però mi chiedo questa è la felicità per te? pensaci questa è la felicità per te? vedere il calzino fuori posto in casa? non lo so a me no cioè io quando studio la mia scrivania sì c'è un libro là la penna lì certo sì sì ma ricondo era era disordinatissima sì 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 è così non so se hai letto i libri comunque nel videocorso gratis lo dico sì parlo anche di lei sì ne parlo ad esempio se ti interessa l'ho linkato nei commenti aspetta se te lo linko se ti interessa scoprire un po' di più riguardo ne parlo solo che non vedo ah ecco ora vedo tutto rispondi lei sì ma nessuno nasce ordinato patrizia il riordino non è innato non è innato il riordino te lo linko se ti interessa ok gratis e scopri un po' di roba riguardo all'ordine ok riguardo a chiamare il condo ne parlo perfetto ok sì lei non era disordinata sì 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 ma certo ma una persona che fa una roba così non può essere ordinata cioè tutte le persone che sono ordinate ci sono persone che sono ordinate io le ho conosciute però secondo me è difficile trasmettere la difficoltà che una persona disordinata se tu non lo sei mai stato io sono stata molto disordinata prego prego patrizia io sono stata molto disordinata ma ero davvero tanto disordinata ma si vede anche cioè io ad esempio anche quando parlo sono una persona che vedete che cambia tanto molto argomento passa una cosa all'altra perché io ho una velocità di pensiero sono molto molto attiva su questo punto e continuo a avere idee pensieri cose no e quando io ero disordinata ovviamente immaginate quello che c'è nella mente ok intorno a me era un casino pazzesco era un casino pazzesco e ovviamente ero non ci capivo niente io sono arrivata a un certo punto a 19 anni lo racconto racconto la mia storia io nel videocorso gratis lo racconto lo racconto nel quarto video racconto la mia storia racconto il perché io a 19 anni ho preso questa scelta e ho fatto ordine e non è perché volevo fare e non perché tipo avevo un calzino fuori posto c'erano problemi molto più profondi nella mia vita che mi hanno portato a essere arrivata al limite ok e il disordine ok era semplicemente la dimostrazione di tutto quello che non andava e non era andato fino a quel momento io dopo che ho fatto ordine ho preso in mano la mia vita letteralmente non mi sono più concessa la possibilità che qualcuno potesse mettermi i piedi in testa non mi sono più concessa la possibilità che qualcuno potesse decidere il mio futuro per il mio futuro ok perché perché è così perché tu devi andare all'università perché tu dove hai fatto lingua quindi quando vuoi lavorare cercare un lavoro devi cercare di fare lingue devi viaggiare devi fare questo io in realtà mi sono detta ma ok questo lo dici tu bene ora voglio vedere proprio quello che dico io e come sono iniziata ad ascoltare io ad esempio quello che succede quando le persone fanno ordine davvero? no adesso te la carolina fai così scrivimi una mail oppure scrivimi nei messaggi qua su messaggi messanger mi scrivi la tua mail così io controllo se sei nella lista e vedo e ti mando i video ti rimando io succede delle volte perché siete tantissimi non avete idea di quante siete e quindi succede che ogni tanto una mail si perde ok ma non è colpa mia la tecnologia è perfetta ma non del tutto ok quindi in realtà anche la tecnologia visto che voglio tecnologizzare tutto anche quello prima o poi insomma peccherà anche quello quindi carolina tu fammi un messaggino con la tua mail semplicemente sulla tua mail su messenger ok così non la metti qua pubblica e io poi ti invio tutto va bene prego prego ci mancherebbe fate bene a dirmelo assolutamente perché mi capita infatti alcune mi scrivo e mi dicono a me non è arrivato nulla alba e io ops e quindi niente non ci posso fare nulla adesso ve le invio tutte assolutamente e e quindi diciamo che l'ordine è molto più è qualcosa in più ok infatti io ho avuto un problema enorme dopo che ho fatto ordine perché io volevo fare esattamente quello che volevo e per gli altri era un problema enorme perché dicevano che boh non lo so era un problema ma tosta che comunque quello che dico sempre è che se avessi fatto quello che gli altri volevano avrei accontentato gli altri avrei accontentato gli altri non avrei accontentato me stessa è come quelli che perché io cioè quello che ho capito anche sempre in questi quattro anni di esperienza e così anche grazie all'ordine ok è che noi siamo fatti di emozioni abbiamo un cuore che batte ok e se ci pensate le emozioni più belle come la gioia e la felicità non sono razionali sono emozioni ok sono emozioni punto non c'è razionalità dietro quindi cosa vuol dire che quando tu ti crei una vita che è tutta un percorso prestabilito da qualcuno che sono dei passi obbligatori che tu devi fare dove tu non hai possibilità di scelta neanche di rimandare a un certo punto arrivi che cosa ad ottenere quello che tutti gli altri volevano ma hai reso hai ottenuto quello che gli altri non hanno ottenuto ok quindi tu hai reso felici gli altri ma non felice te stessa questo è quello che sono gli errori quando uno fa quello che è giusto ma è giusto per chi per gli altri tu devi fare quello che è giusto per te e quando io ho capito che è giusto per me non era quello che facevano gli altri ok ho detto faccio quello che sento e io sentivo che volevo fare la consulente volevo fare la consulente con Mari io volevo insegnare questi ho adorato appena ho scoperto Mari Kondo appena ho uscito in Italia io sarei andata in America se avessi potuto farlo ma non avevo i soldi quindi che ho dovuto fare mettermi a lavorare e sinceramente io avevo iniziato anche l'università non ero mica una capra nel senso non ero una capra anzi andavo anche molto bene ed era anche una facoltà molto facile nella mia università però quello che ho capito è il mio obiettivo qual è fare la consulente cosa mi serve ora soldi non ho mai non avevo neanche un conto in banca avevo 0 euro io quindi proprio non era il mio non è che ho mai pensato di fare quello io pensavo di studiare dopo che hai studiato fai la magistrale dopo che hai fatto la magistrale ti fai il master insomma non lavori finché non studi studiare non si lavora e invece ho fatto tutto il contrario e meno male che l'ho fatto perché essendo andata subito al primo evento in Europa poi in Italia sono stata la prima ok quindi nel momento in cui tu vai lì sei la prima ero l'unica italiana all'evento d'Europa ok ero l'unica quindi cosa vuol dire che ho fatto bene ho fatto veramente bene perché poi il maricondo lo fa una volta all'anno ok quindi adesso non ho già aperto le cose per quello che ci sarà adesso ad maggio ok ad esempio ma hanno già una lista d'attesa per le italiane ok è già una lista d'attesa quindi se tu non hai inviato subito ciao tra un anno ti si becca tanto loro hanno 100 posti fisso non di più tutto il mondo ci va tutto il mondo tutto quindi ora che voi siete in ascolto comunque se vi piace quello che sto dicendo condividete la live mandate il messaggio a più persone possibili ok che l'ordine è importante la missione ok in questo caso è condividere il messaggio far arrivare tutto questo alle persone che perdono il loro tempo in casa ok e che non riescono ad avere il tempo per se stessi noi dobbiamo avere il tempo per noi stessi non dobbiamo stare attorno a vivere in funzione della nostra casa ma la casa deve vivere in funzione nostra ci deve aiutare ricordatevelo sempre ok quindi la mia missione è quella di dire a più donne possibili basta dire che noi dobbiamo fare tutto in casa noi possiamo farlo ma facendo ordine riusciamo a gestire tutto quindi poi arriva il marito che cosa succede? che il marito lavora e poi vuole il pasto alla sera? vuole la cena pronta alla sera? perfetto però tu cosa fai? dormire tutto il giorno ok tu lavori curi te stesso il tuo benessere fisico poi i soldi l'economia amore relazioni in tutto questo gestisci pure la casa e i figli è possibile è fattibile basta fare ordine perché al momento ti fatti ordine ti togli tutti quegli ostacoli quelle distrazioni che hai in casa e che poi ti portano in vita a mia mente a dire non le voglio neanche nella vita ok è tutto uno specchio la casa è lo specchio della persona che sei ok quindi se vi piacciono le mie dirette vi interessano attivate le notifiche adesso quando voi entrate in diretta c'è sempre la cosa la barretta che vi dice attivate le notifiche ok se vi piace fatelo attivatele ok per me è un piacere parlare a persone che sono interessate ok per me è un piacere perché io voglio aiutare le persone perché io voglio aiutare più persone arriviamo più persone aiutiamo e più la percentuale ok di quel 10% misero delle persone ordinate o che nel mondo le andiamo ad aumentare 90% della popolazione mondiale è disordinata solo il 10% è ordinato ok questo cosa vuol dire che il 90% della popolazione mondiale vive una vita che non gli piace 90% è tantissimo vuol dire che quindi una persona su 10 nel mondo ma se andiamo in Italia praticamente la percentuale si alza ancora di più ok quasi tutti quasi tutti nel 10% ti chiederai ma chi c'è nel 10% nel 10% ci sono tutte quelle persone che vivono una vita che si può definire di successo di successo perché perché fanno quello che amano hanno relazioni appaganti hanno trovato l'amore della loro vita hanno un lavoro di successo magari c'è ognuno ha le proprie priorità ok si parte da una se la tua priorità è il lavoro devi focalizzarsi sul lavoro ma perché? perché un successo porta a un altro successo le priorità come dico sempre non è che cambiano in continuazione cioè non è che tu puoi dire oggi faccio la fotografa domani faccio la modella dopo domani invece voglio fare la regista ah oh scegli dove vuoi stare davanti dietro alla fotocamera di fianco con le luci decidi perché? perché è importante perché nel momento in cui tu continui a cambiare non otterrai mai niente quindi ti sentirai sempre insoddisfatta quello che uno deve dire è la priorità è voglio fare la fotografa faccio quello per un anno due anni tre anni finché non ottengo il risultato le priorità cambiano quando le priorità vengono soddisfatte ok le priorità cambiano quando vengono soddisfatte non quando sei insoddisfatta perché sarai ancora più insoddisfatta quando inizierai qualcosa di nuovo e non otterrai comunque il risultato perché non hai costanza non hai disciplina e quindi farei lo stesso errore che hai fatto prima lo farei anche in altre cose e attività che inizi ok per questo è bellissimo ok quando esempio io sono una persona che io sono una persona che tipo mi qualsiasi cosa un po' curiosa così mi colpisce ovviamente sono una persona curiosa perché se no mai avrei pensato di fare questo nella vita sei uno stimolo ciò che dice l'illuminante mi ha fatto capire che il mio caos mentale è portato al mio disordine esterno esatto c'è una correlazione sì Carolina c'è una correlazione tra ambiente in cui vivi e ovviamente te che ci vivi ti spiego subito perché in modo un po' più specifico allora tu sei in casa tua guardati attorno ora che hai vedi attorno a te come la tua casa quella casa è così solo perché ci vivi tu se ci vivesse qualcun altro non sarebbe così con quelle stesse cose in quella stessa posizione ci sarebbe un disordine diverso o un ordine migliore ma ci sarebbero cose completamente diverse perché le cose che hai tu raccontano chi sei tu ok le cose che raccontano un'altra persona sono altre quindi vuol dire Carolina se tu ad esempio non hai la passione per i videogiochi in casa tua non ci saranno i videogiochi ok ma in casa di un'altra persona ci saranno quindi cosa vuol dire che magari tu sei disordinata su una categoria specifica un'altra persona invece su un'altra ok quindi il disordine la tua casa veramente parla di chi sei è vero che quando entro in casa delle persone dico veramente mostrami la tua casa ti dirò chi sei perché è vero io veramente ma perché ovviamente vabbè che ho un occhio un po' più allenato ovviamente sull'esperienza di tante persone che ho visto però quando tu vedi la tua casa è disordinata sei tu ok non ti piace quello che vedi ma sei tu però perché non ti piace perché vedi il peggio di te è il peggio di te però puoi vedere il meglio di te perché il disordine nasconde ok ostacola ti distrae ok da quello che sei tu dal meglio che sei tu dai tuoi punti di forza dai tuoi sicurezza cioè il disordine è un'insicurezza se tu ti vergogni del tuo disordine ti vergogni di te stessa ok questo è importante per non vergognarti di te stessa e quindi andare a risolvere anche questa la più grande insicurezza che tutti hanno no sulla propria casa che non possono avere ospiti all'ultimo minuto è andare a fare ordine il momento in cui tu fai ordine riscopri chi sei stata riscopri chi sei ma soprattutto chi vuoi essere il momento in cui tu inizi a fare ordine cos'è che accade accade una cosa pazzesca perché tu nel momento in cui dici oggi faccio ordine inizio un percorso ok dove faccio ordine veramente ok agisco non lo penso agisco cosa accade che tu stai dicendo oggi decido di non convivere con il disordine cosa accade che tu stai descrivendo anche la persona che sarai domani e domani tu sarai una persona che non conviverà ancora con il disordine esempio più diverso fuori dall'ordine dieta questo funziona sempre ok un esempio buono oggi io voglio andare in palestra a mettermi in forma oggi non mi piaccio ovviamente perché se ti piacessi non avresti questo desiderio ok non mi piaccio perfetto oggi dovrei mangiare in un certo modo è una disciplina interiore esatto infatti io nel mio percorso personalizzato io insegno una disciplina specifica ma perché ma perché comunque quello che io faccio ovviamente non è che tutti fanno questo ovviamente ma quello che io ho capito e quello che io voglio fare è aiutare le persone non solo con un ordine fino a se stesso perché non è duraturo io quello che ho capito che non è duraturo è duraturo il momento in cui avviene un cambiamento interiore che parte da qua quindi si parla di mentalità mentalità ordinata persona ordinata mentalità disordinata confusa persona confusa disordinata ok quindi il più grande limite di noi stessi siamo noi e i nostri limiti sono tutti qua quando ad esempio noi pensiamo di non poter fare qualcosa in realtà è perché noi ci stiamo dicendo che non possiamo farlo però abbiamo provato a farlo quello che dico sempre io non posso fare ordine mi dicono fallo provaci provaci con me però provaci con me che ti seguo poi vediamo perché non ci credo non ci credo a meno che ragazzi si parla di malattie ma quello che è la malattia del consumismo scusatemi del accumulatrici seriali o quelli che sono iperordinati che hanno dei problemi mentali ok ma io non parlo a quella gente ok quindi vado ai psicologi da persone ovviamente che capite cercano di aiutarti ma da un punto di vista psichico ok noi andiamo a lavorare su che cosa sulle cattive abitudini le cattive abitudini ok partono un modo di pensare tipo la ad esempio non lo so una cattiva abitudine che abbiamo tutti io non più però le persone che sono disordinate ce l'hanno e io avevo era che quando usavi qualcosa non la rimetti via posto ok quindi cosa accade che si crea disordine si crea caos confusione va bene quindi questa è la cattiva abitudine di lasciare le cose fuori posto ok questa cattiva abitudine però nasce da che cosa dal pensiero che tanto ok posso lasciare le cose fuori posto tanto lo faccio dopo tanto 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 rimandare procrastinare pigrizia ok sono queste le cattive abitudini queste sono tutti i problemi che hanno le persone disordinate che sono pigre sono pigre procrastinatrici modello ok rimandano qualsiasi cosa e dicono si inventano qualsiasi scusa per non farlo in quel momento ok tutto questo sono cattive abitudini che si installano qua ma perché si installano qua perché tu le fai in casa tua dove tu sei te stasso al 100% ok ovviamente se quello che dico vi piace pensate che sia interessante ok condividete questa live condividetele questo è un modo per aiutare anche altre persone per far luce su questo è importante è importante questo è il messaggio che bisogna far arrivare in Italia il più possibile perché non possiamo sempre essere gli ultimi in Italia che capiscono le cose per ultimi non è possibile perché non siamo arretrati ok non siamo arretrati quindi cerchiamo di aiutarci ok la cosa bella che io faccio ad esempio è cercare di portare questo percorso anche in un momento di di farlo condividere di creare condivisione fra le persone infatti le donne che sono in Shergomè c'è un gruppo riservato dove loro condividono il loro percorso e si aiutano l'un l'altra si fanno si sostengono ok questo è importante perché nel momento in cui tu condividi ok e quindi tu aiuti qualcuno ricevi quello che tu hai fatto che hai dato ed è molto bello ok perché la condivisione secondo me è qualcosa di importantissimo che noi non abbiamo ecco adesso veramente tu molte donne che ho sentito ok quando le sentivo mi dicevano tutti i loro problemi così cioè io ed ero un'estranea ma perché questo perché sono sole perché non c'è più quella condivisione che c'era prima che magari tipo non so sul pianerottolo c'hai vicini con cui parli ci sentiamo tutti lontani tutti lontani allora quello che volevo creare io visto che è un problema il disordine ok e che tutti lo vedono come essendo un problema comune non è un problema in realtà è ancora più grave secondo me quello che ho fatto è dire visto che tu pensi avere un problema ok e ti senti sola sappi che non sei sola perché ci sono altre donne come te che hanno visto che hanno questo problema che vogliono però risolverlo quindi sono coraggiose quanto te e qui andare a vedere proprio l'ordine come invece un riscatto personale come quella cosa per dire cavolo se lo faccio io lo fanno loro lo possiamo fare tutti anche se è un piccolo mondo ok però è bellissimo perché tu puoi condividere un percorso che stai facendo ed è importantissimo quando fai un percorso importante nella tua vita poterlo condividere poter condividere il bel percorso che è perché è un percorso di cambiamento è un percorso unico non ti capita di farlo due volte nella vita ok è impossibile una volta che lo fai è fatto non puoi più rifarlo quindi ti dà delle gioie ti dà tante gioie questo percorso ok perché ti aiuta a riscoprirti ti aiuta a prendere delle scelte ti aiuta a essere più felice e quando tu fai questo ok è bello poterlo condividere perché altre persone come te lo stanno facendo quindi si crea un luogo positivo un luogo sicuro io lo chiamo così io lo chiamo un luogo sicuro dove poter essere se stesse e dove poter condividere un problema che si ha ma in come con quale funzione con quella di migliorarsi di non giudicarsi capito perché molte persone hanno questa cosa che infatti hanno vergogna ok e non non hanno ospiti così perché si vergognano ma ci sta è vero perché ti vergognano la tua insicurezza ok ma vuoi continuare a vergognartene per sempre al posto di risolverla tantissime donne io chiedo sempre riesci ad avere ospiti a casa l'ultima volta che ho avuto ospiti a casa mi dicono no se possono evitano ma non perché sono asociali non ce n'è che sono asociali anzi anzi tutti vorremmo cioè nel nostro luogo nella nostra casa poter condividere con le persone che amiamo con le persone che vogliamo bene nell'ambiente in cui stiamo bene tutti lo vogliamo cioè poi c'è la sociale di turno ma come sempre ma non è che dobbiamo essere tutti uguali ok però è anche vero che quando tu vai a casa di una persona cambiamolo quando tu vai a casa di una persona ti piace quando vedi la casa ordinata ti piace e ti piace come se vi piace ditemelo commentatemi ditemi a voi prima domanda che vi chiedo è se voi vi vergognate di avere ospiti a casa per esempio una cosa del genere se quando avete ospiti a casa magari quante ore passate il giorno prima mi ricordo quando ho sentito Vanna che lei è nel gruppo di lei è nel scelgo me nel percorso quando ho sentito al telefono mi fa guarda proprio domani devo avere ospiti adesso passerò tre ore a mettere a posto casa tre ore tre ore che è tantissimo è tantissimo adesso che sta facendo il percorso ok lei ha già fatto carte documenti è passata già alla terza alla quarta categoria perché lei ha i vestiti li fa alla fine perché sono ricordi ok praticamente cosa fa ora che ha fatto ordine cosa succede che lei ha guardato tempo ok perché le carte sono a posto i libri sono a posto poi è passata alla quarta categoria il comono ok il comono sarebbe per chi giustamente non conosce il metodo sarebbero oggetti miscellani che non sono inclusi nelle altre quattro categorie ok questo è importante da sapere questo è il mio comono parola giapponese ok e quando e quando lei ha fatto ordine ok guadagna tempo ma quindi cosa vuol dire che quando tu hai ospiti cosa devi fare fare una pulita ma ci sta ma lo fai per te stessa cioè quello che vuole far capire che non è che metti ordine in casa e pulisci casa perché devi avere ospiti cioè lo fai per loro devi farlo per te cioè non è che puoi mettere ordine in casa perché devi avere gente uno deve capire che tutto quello che fai nella tua vita lo devi fare in primis per te stesso è come l'ordine quando tu fai ordine non devi farlo per gli altri io dico sempre se tu fai ordine perché tuo marito ti dice che sei disordinata è un ottimo motivo per cui tu non continuerai e non otterrai nessun risultato quindi se tu fai ordine perché l'ordine è un passo importante per ottenere un obiettivo tipo vi parlo di alcuni obiettivi che hanno alcuni nel gruppo di scelgo me una dimagrire ed è sulla strada l'esempio dimagrire come è possibile nel momento in cui tu fai ordine esempio il disordine eh ci credo beh ma tu sei sempre stato un po' abbastanza ordinato comunque Davide me lo ricordo quindi eh ma se quando fai le valigie parti per i tuoi viaggi e vento manda una fotina io sono felice e quindi cosa succede qua ad esempio tu mangi scusami vuoi tornare in forma ci sono delle distrazioni ad esempio il cibo che tu non dovresti mangiare ad esempio io sono intollerante al lattosio ok da far paura cosa accade che io nel momento in cui avevo qualcosa in casa che non potevo mangiare ovviamente il mio ma il mio occhio ma cosa cosa si indirizzava secondo voi ma sulla nutella sui biscotti con il burro sulla sul mascarpone a pasqua ovviamente morte per me cioè io stavo malissimo cioè la notte ma non vi dico però perché lo facevo perché ce l'avevo davanti agli occhi perché era in casa mia perché se non avessi quelle cose in casa mia ok io non farei mai però purtroppo vivo con la mia famiglia e la mia famiglia mi sta sabotando ok quindi io cosa devo dire no sapete quante volte io dico no a mia mamma che mi voleva dare quello mi fa la mozzarella in carrozza mi vuole fare quel tipo di cibi buoni l'altra volta è andata a Napoli mi ha portato i dolcetti buoni napoletani mannaggia mannaggina e non ho potuto mangiarli perché sto male sto male e ho dovuto dire no 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 dopo un po' che dici no ti senti diversa l'è brutto però cosa dico mi rende più felice star bene ok puoi poter vivere la mia giornata bene oppure star male col mal di pancia e tutto quello che mi comporta sicuramente la prima che era essere felice e poter uscire tranquilla poi dopo che ho mangiato ok quindi ci sono dei limiti ok che dobbiamo porci anche quando esco con le persone molto spesso io non esco a cena con la gente e arrivo dopo è un limite? per gli altri sì ma ormai io in realtà ne trovo giocamento perché? perché non sto male e per me è quello che mi rende felice preferisco arrivare dopo può essere parte della serata essere contenta piuttosto che star male col mal di pancia che mi viene il sonno mi cadono i palpebre no cioè io non mi voglio lamentare non mi voglio lamentare io lo faccio per me quindi farlo per me vuol dire che poi se tu stai bene stai bene anche per gli altri quindi ovviamente le persone sono più contente tutto torna quindi in casa noi siamo una priorità nel momento in cui tu fai gli ordini capisci che devi essere una priorità nella tua vita questo io l'ho capito a 19 anni quindi cosa è successo che non mi sono fatta prima tripiti in testa mai mai ma neanche dal ragazzo ma neanche dagli uomini ma neanche dai miei capi cioè io ho provato a fare vari lavori ok ho provato ma ho dovuto sempre mollare il mio massimo è stato il mio massimo è stato due anni come fotografa perché ho una grandissima passione ma anche quella mi sono riuscita a rovinarmela ok quindi non ho mai avuto un capo cioè non sono mai riuscita cioè perché cosa succedeva che finché era lavorativo anche a pallavolo quando giocavo io appena vedevo che finché era tecnico ok io imparo mi dici che il vostro posso do tenerlo in un modo lo faccio mi dici che devo attaccare quella spalla più aperta lo faccio nel momento in cui mi dici guarda è barista fai il caffè così pulisci là l'acqua ormai anche quando vedo quando fanno il caffè ragazzi vi dico che la maggior parte dei caffè fanno schifoni in giro vabbè perché l'ho fatto so com'è poi ho fatto cos'altro ho fatto la fotografa una grande gavetta mi son fatta ho viaggiato per tutta l'Italia e l'estero caspita bellissimo che sono anche cresciuta in quel percorso e tutto però cosa è successo? ovviamente che non andava bene qualcosa del mio carattere ok e io sono una persona come si nota comunque che ha un suo carattere ha una sua personalità ma tutti noi l'abbiamo è solo che delle volte mi ha timore a tirarla fuori però quello che ho capito nel tempo è se io non sono me stessa il mio capo con chi pensa con quale persona pensa di lavorare perché poi io non mi faccio andare bene le cose se tu mi dici non lo so comunque sempre sul personale a me queste cose qua mi tocca il personale io me ne vado cioè dico vabbè dai basta sono fatta così sono fatta così infatti ho detto basta devo fare un'attività da sola perché se no io non posso avere capi perché se no non sottosto non sottosto si dice non riesco a sottostare alle regole degli altri tutto qua quindi uno si conosce si conosce e capisce che insomma ci sono delle regole a cui bisogna un po' devi capire che persona sei io non sto alle regole degli altri ok quindi sono fatta così e sono felice sono felice perché l'ho capito molto presto e che mi sono imposta ovviamente ho perso un sacco di persone cioè nel senso ad esempio Davide non lo vedo mai nel senso perché ho preso delle scelte ma delle scelte che per me sono state molto importanti ok perché se non avessi preso quelle scelte di andarmi da quei posti di lavoro non avrei mai capito che in realtà dovevo fare un passo avanti cioè farmi la mia attività realizzare il mio sogno essere una consulente con Mari essere una consulente con Mari Italia il più giovane nel mondo fare questo aiutare le persone avere un gruppo un percorso personalizzato dove aiuto donne a cambiare la loro vita a cambiare la loro vita grazie ad un percorso di riordino che ti dà strumenti sia per aiutarti dal punto di vista interiore che pratico ok questo è quello che io volevo fare l'ho fatto l'ho realizzato ovviamente tutto quello che ho fatto nella mia vita mi è servito ma questo tutti tutti noi abbiamo delle capacità ok semplicemente bisogna avere il coraggio ok di esporsi perché? perché pensate che adesso sto facendo la live ma pensate che boh io ero sicura al 100% di incontrare persone che mi avrebbero capito che avrebbero visto il problema veramente come un problema da affrontare da risolvere non ho detto assolutamente no avevo la paura ma non c'è senso però ho detto prefisco convivere con la paura o essere felice e provare e rischiare ho rischiato come in tutto nella vita ho rischiato sempre ok ho seguito quello che si chiama cuore si chiamano emozioni ok quando pensavo cosa mi rendeva felice non era fare la cameriera ok era fare la consulente grazie Patrizia grazie era fare la consulente ok quindi quello che dovete fare anche voi è questo quando sento le donne al telefono che mi dicono l'ultima è stata questa io ho una grande passione la danza mi piace insegnarla mi ha dato tutti i tipi di giri di danza che insegna bla 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 e io ho detto perché non mi insegni danza e perché devo stare dietro a mio figlio a mio marito nella casa e io ho detto scusami mi faccio sempre la solita domanda ma se eliminiamo il disorno nella tua vita e quindi non sei più tra la casa e quindi più tempo e più energie scusami perché non ricomincio a far danza eh sì sì è vero la giovane sì 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 però doveva chiedere al marito non l'ho più risentita non l'ho più risentita non l'ho più sentita io questa quindi quando dico vedo dei bellissimi commenti che mi state facendo quindi quindi io sono molto molto felice ovviamente e io arrossisco anche ovviamente questo non si vede perché in realtà sono già rossa in qui si vede che sono già rossa ma non sono molto contenta ok quindi se se vi piace questa quella mia energia ok condividete condividetela live fatelo sapere aiutatemi facciamo questa cosa di arrivare alle persone ok alle donne io voglio urtare principalmente le donne devo essere sincera perché comunque quando sento non lo so le donne hanno un qualcosa che cioè gli uomini sono un po' più ordinati rispetto alle donne ma proprio per una questione di mentalità le donne noi ci sentiamo che dobbiamo fare dieci cose per forza contemporanea dobbiamo essere madri mogli perfette mogli perfette madri perfette lavoratrici donne da urlo ok dobbiamo sempre paragonarci alle altre sentite quando noi vogliamo essere perfette non lo saremo mai mai non saremo mai perfette perché quando noi pensiamo di essere perfette ci stiamo paragonando a qualcuno ok che è migliore di noi ok ma nel momento in cui ci sentiamo perfette ci stiamo giudicando ci stiamo paragonando a qualcuno che è dietro noi quindi è peggio di noi ma arriverà sempre qualcuno che è meglio di noi ok ma soprattutto avrà sempre un difetto ok anche io nel mio videocorso dico cavolo però in quel video c'ho l'occhiaia c'è un video ok nel mio percorso lì scelgo me c'è un video che ho fatto dopo c'ho l'occhiaia perché ovviamente è stato un lavoro intenso ok un videocorso in Italia non c'è nessun videocorso è un unico percorso in Italia ok che consente di fare ordine fuori dentro di sé nella propria vita nella propria casa è stato un bel lavoro ok io ho avuto i due anni quindi mi sono messa tre mesi ok a di duro lavoro a fare quello perché? perché io volevo aiutare le persone quindi ne valeva la pena ok valeva la pena che io mi rinchiudessi per tre mesi ok non avessi amici non avessi relazioni cose per aiutare altre persone ok l'ho fatto l'ho fatto e ho fatto bene ovviamente non mi pento di niente però cosa accade? cosa accade? quando non mi sono perso non ho perso anche il filo io vabbè comunque stavo dicendo qualcosa vabbè comunque io ho deciso di fare questa cosa ok che è quello che mi rende felice punto quindi dovete farlo anche voi dovete trovare la vostra ragione di vita ok ma quello che lo fa io in realtà quello che un po' faccio anche questo aiutare a trovare la ragione di vita infatti nel percorso io inserisco anche dei file pdf ok cartacei per fare una piccola analisi un po' qua su quello che sono le priorità gli obiettivi chi sei tutte queste cose che sono molto importanti ok e quando tu fai un percorso devi avere consapevolezza di quello che stai facendo adesso degli step che hai davanti e quando finisce perché se tu non sai queste cose non arriverai mai non ce la farai mai sarà ovvio che sarà una montagna in solo cioè veramente una montagna in solo montabile di vestiti di cose anche nel percorso mi è capitato che non seguisse esattamente quello che io dicevo e io dico ma se dico di fare A B C non dico non dico di fare A e poi di fare A2 B B2 C perché si perde tempo ok quindi appena vedo che fanno un errore bam dico no fermati non perdere tempo sei sbagliato tutto punto quindi quindi se condividete ok questo questo messaggio questa missione quella di aiutare più donne possibili ok a non vivere dietro la casa perché ecco cosa stavo dicendo che noi donne dobbiamo essere multitasking dobbiamo essere donne perfette in tutto diecimila cose dobbiamo fare allora io sono contenta che l'uomo che è genere umano maschile per di più e poi quelle donne che magari hanno questa idea di poter pensare di fare diecimila cose e saperle fare tutte bene 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 io non sono d'accordo assolutamente non sono dell'idea ma perché perché scusami ma se la donna si fa un mazzo tanto per fare dieci cose contemporaneamente e l'uomo ne fa due ok e riesce bene quindi in media sono più uomini di successo uomini in carica che sono come i vertici e così perché le donne no perché le donne no e perché noi dobbiamo fare dobbiamo sempre le nostre energie dobbiamo dobbiamo praticamente dividerle per dieci cose ma è ovvio che poi tu ci metti dieci volte ci serve dieci volte il tempo di quello che serve una persona normale se si focalizza solo su quello quindi se tu fai ordine ok ottieni più tempo ottieni più energia ma soprattutto capisci che non puoi avere troppe priorità nella vita esempio se tu vuoi fare il vocalist vuoi essere il vocalist numero uno in Italia quello che devi fare è fare quello quindi quando incontri la gente tu sei il vocalist punto non sai altro perché la gente ti deve ricordare per quello perché quando avranno bisogno di te chiameranno te quando tu sei in giro ok sicuramente seguirai altri vocalist quindi ti farai non so andare l'ora e venti quando tu vuoi diventare il vocalist numero uno studia studi fai studi formazione solo quello quindi cosa vuol dire che i tuoi soldi il tuo tempo le tue energie le dedichi per quella priorità ok e quando tu ti concentri su una priorità vedi che i risultati arrivano che non puoi aspettare che non puoi aspettare una settimana un mese ci vuole anni io ci ho messo quattro anni quattro non è culo non è fortuna è impegno è costanza disciplina essere meticolosi non approssimativi il disordine è essere approssimativi se tu fai ordine poi ritorni al disordine è sempre approssimativo e lo sai anche fuori in qualsiasi cosa nel lavoro inizi dieci cose ne finisci mezza oppure e fai una pratica un progetto ti ritornai indietro perché? perché non ho avuto quella del dettaglio e il tuo capo non lo vede? sì che lo vede e qui sto da una promozione che la dà a te o a un altro o a un altro è giusto non è sbagliato a scuola i meriti riprendeva quello che era più bravo dall'inizio alla fine durante l'anno e prendeva dieci perché era più costante era giusto è giusto è giusto non è che se tu prendi dieci una volta ti meriti dieci chi sei? nessuno dimostralo dimostralo che tu ti meriti quella voto dimostralo che tu sei costante che tu non è che studi una volta nella vita devi dimostrarlo ma non devi dimostrarlo agli altri dimostrarlo prima a te stesso quello che dico sempre è questo dimostrare prima a te quello è che tu metti in ordine casa ok? perché devi avere ospiti tu la casa devi mantenere in ordine sempre è come quella persona che si fa la barba quando esce con la nuova ragazza no tu devi essere sempre rasato per te stesso se ti piace sempre e l'educazione oppure porti a cena la fai magari la prima linzo corteggi la ragazza la porti in posti fighissimi poi invece mai più una volta che ti si fidanzi un'uscita ciao si stacca sul divano a poltrire cioè devi essere te stesso ok? non è che devi cambiare quindi non è che lo fai solo per conquistare una persona per avere ottenere per forza un tornaconto tu devi fare le cose senza pensare che torni dietro qualcosa ok? anche io sono qua ogni giorno a fare ore di live perché lo voglio fare per dare ok? per dare valore per dare informazioni per aiutare se una persona pensa sempre che tutto quello che fai deve tornarti indietro purtroppo l'obiettivo terminerà molto presto perché quando non ti torna indietro qualcosa non avrai più la motivazione per andare avanti ok? e io in 4 anni ok? per quando dovevo farle mi ricordo il training dovevo trovare persone che non conoscevo per fare ordine è stato difficilissimo perché io ho 21 avevo 20 anni e tutte le persone disordinate così ok? sono donne ok? che io cercavo donne comunque uomini dai 30 anni in su è stato difficilissimo trovarle però cosa ho fatto? aiuto qualcuno che già conosco oppure mi faccio il bip e cerco e cerco già da adesso perché poi il lavoro non è che poi faccio il training mi certifico e poi arrivano da sole le persone non arriva nessuno non arriva nessuno quindi ho detto lavoro già da adesso quindi io faccio le cose per me prima perché poi tanto tutto torna tutto torna come quando ti curi di più non so vai in palestra perché ti piace perché lo fai perché ti piace stare bene cos'è che succede? che poi stai bene di salute sei in forma e piaci e tutto quello che vuoi ma è una conseguenza prima c'è lo star bene questo è tutto questo è ordine ok? l'ordine ok? è disciplina è saper dire no è saper dire sì quando tu dici sì a qualcosa stai valorizzando quello a cui dici sì così nella vita quando tu esci con tutti i giorni va bene uscire con chiunque senti ma io non vorrei mai essere una di tutti chiunque con cui esci cioè perché? perché so che tu non dai un valore a tutte le persone ok? io invece le persone che faccio entrare nella mia vita io do molto valore perché quando dico sì a loro sto dicendo no a tanto altro a tante altre persone che non se lo meritano quindi in realtà per me dire sì a loro vuol dire valorizzare quelle persone e dirgli guarda che se tu fai parte della mia vita ok? è perché per me lo meriti punto poi io mi posso beccare la persona che non so ti usa così ma fa niente noi dobbiamo fare le cose per noi poi non possiamo controllare tutti ok? l'ordine non è il per controllo noi possiamo controllare le cose che abbiamo in casa ma perché le possiamo controllare? perché siamo noi che le compriamo e noi che le accumuliamo e noi che le usiamo e noi che non le usiamo le persone no quindi quando tu ti approcci alle persone devi sapere che tu sei te stesso quello che succede non puoi deciderlo tu tu puoi scegliere ma non puoi decidere ok? quindi puoi scegliere di dire sì no ma non puoi decidere come andranno le cose questo lo dice un libro che è Zero Limits questo qua tacchete bel libro ok? questo lo dice quel libro quindi quando noi vogliamo avere il controllo su tutto già fare ordine ti fa capire che non puoi avere il controllo su tutto ok? però almeno sulle cose in casa sì però fuori no le persone che sono iper 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 controllo su tutto maniacali sono persone che quando stanno quando ti ponono una reazione non permettono niente a quella persona di fare nulla diverso da quello che loro vogliono cioè creano non se ne accorgono ma creano una gabbia cioè tu devi lasciare libertà la libertà viene sempre ripagata bene perché si torna sempre dove si è stati bene ricordalo e quindi quando tu dai libertà a una persona quella persona sta bene ok? quindi sì l'ordine ti insegna anche a creare delle relazioni sane e di successo è così sì sì non ci sono tante cose da dire a riguardo quindi come vi ho detto questo è quello che ho fatto io appunto è creare un videocorso gratis ok? che ho messo nei commenti comunque ve lo ricommento perché non so mai se lo vedete lo metto ok? dove io insegno tutto questo approfondisco le tematiche che affronto nelle live ok? tutti gli esempi che vi faccio ok? sono un per cento di tanti milioni di miliardi di esempi che vi posso fare ok? questo serve ok? per avere informazioni a riguardo informazioni sulla potenziale dell'ordine l'ordine ha un potere straordinario perché? perché il disordine non ne ha neanche uno ok? è negativo non ha niente nessun beneficio non serve a niente il disordine niente neanche per la creatività lo ripeto per la ventesima volta perché tutte mi commentano eh ma il disordine serve per la creatività io ti dico no il disordine serve ok? facciamo così facciamo il ragionamento giusto creatività ok? è idea quindi ci sta che mentre tu stai creando ci sono fogli in giro penne in giro libri di qua libri di là ma una volta che hai creato e hai l'idea la creatività devi avere lo spazio per poter far emergere questa idea per far devi avere lo spazio per farla sviluppare se sei disordinato così come hai creato quell'idea quel giorno e il giorno dopo due giorni dopo te la dimenticherai e ne creerai un'altra ok? priorità che continuamente cambiano in costanza ok? mancanza di disciplina essere approssimativi il disordine non ti aiuta non aiuta niente non ha mai aiutato nessuno nessuno mai ha detto importante qualcosa perché è disordinato no e se tu mi dici eh ma quelli là che scrivevano sai perché non erano non erano disordinati quelli là che scrivevano basta e rampini di fogli in casa perché facevano una cosa scrivevano e in casa rampini di fogli che avevano scritto di loro opere di penne per scrivere e fogli inchiostro punto non c'è nient'altro ok? quindi se tu mi dici che disordine è avere la casa piena di una sola cosa ti sto dicendo che invece quella è la priorità ed è l'unica ragione di vita per cui che hanno e hanno un letto e una scrivania per scrivere punto non hanno nient'altro sono quelle persone che quando hanno un'idea o un progetto una priorità fanno di tutto per ottenerla ok? vedi i miei libri ovviamente c'è solo roba che ne renta all'ordine e alla psicologia che ovviamente aiuta questa crescita personale interiore questo è punto non c'è nient'altro ovviamente sono anche ordinata perché ovviamente il mio tempo non lo butto in casa ed è questa la missione in Italia cercare di far capire che bisogna cercare di di sfruttare il nostro tempo ok? non possiamo pensare di passare maggior parte della nostra vita a cercare cose a riordinare casa a pulire casa a riorganizzare casa la vita è tutt'altro la vita è fuori la casa deve essere quel posto dove tu ci stai bene sereno tranquillo bellissimo dove tu ti senti coccolato dove tu torni ti senti sereno tranquillo ci puoi stare una sera bello coccole relax niente stress si ti stiracchi ti vedi film comodo senza stress comodo senza stress punto quindi quando uno si chiude in casa dopo un po' ti annoglia dopo un po' diventa una gabbia anche se uno dice ma ci sto bene diventa comunque una gabbia perché tutti noi abbiamo dei sogni abbiamo dei desideri anche la camminata fuori all'aria in campagna in aperta campagna è un desiderio ed è poco è quello che ti rende felice ogni volta c'è una piccola cosa a me piace un sacco guardare il tramonto per esempio quando posso che nella mia città non c'è la nebbia possibilmente vado al ponte ok il ponte è coperto mi guardo il tramonto punto mi rilasso sto bene è una cosa che mi dà felicità punto non faccio altro ok questo è quindi la mia giornata so benissimo che cosa ci deve essere che cosa non può mancare e se posso dire cosa non può mancare nella mia giornata è sicuramente vedermi un bel tramonto quindi sentirmi parte della natura sentirmi parte dell'universo del mondo sentirmi parte punto è aria ossigeno vita questo è poi sicuramente non può fare la mia giornata deve esserci sempre la live su facebook ok è leggere un libro su inerente le mie attività questo e questo dobbiamo pensare che tutti noi ogni giorno dobbiamo avere una priorità dobbiamo averla e la priorità sono sempre noi innanzitutto noi siamo qua e poi dobbiamo pensare a quelle cose che ci rendono felici perché il nostro dovere ogni giorno è quello di sentirci di essere felici il nostro dovere è lavorare fare tutto ma essere felici fieri a fine giornata per questo quando tu vedi la gente che tipo lascia tutto e va nei paesi più sperduti è felice perché in realtà si vede che quella persona ok è felice sentendosi libera ok in un posto in natura ok per noi è assurdo per una persona è assurdo però per quella persona è la felicità però poi la invidiamo perché ha fatto quella cosa quindi forse anche per te è così allora ti scatta qualcosa forse devi cambiare forse devi fare qualcosa sì devi agire devi agire adesso è inutile stare ancora a pensare donne le donne pensano tantissimo hanno un cervello che non finisce più mamma mia anch'io è una persona che faceva certi castelli ogni volta basta io sono tolle balle ho detto proprio guarda se anche quando tipo non so uscivo con i ragazzi queste cose ma quanti film che gli facevo ogni volta ho detto non sai che ti dico ma non mi frega niente allora io ti dico le cose ma va bene se non fa ciao è stato bello cioè nel senso baci e abbracci deve essere così no non ti devi fare tutti questi problemi però anche perché se non va qualcosa non è mai colpa dell'altro tu devi sempre vedere su di te io quando dicevo ma se qualcosa non è andato sicuramente ho sbagliato anche io qualcosa ok e delle volte non ci si trova delle volte hai sbagliato il modo di approcciare non hai avuto abbastanza tatto non si può sapere cioè hai sbagliato l'argomento insomma ci sono stesse cose l'ordine ok ti fa capire che cosa ti fa per te fin da subito non ci devi perdere tempo con le persone quando tu ti conosci facendo ordine riscopri chi sei la tua identità la tua identità è chi sei stato chi sei chi vuoi essere nel momento in cui tu fai ordine ok cosa succede che tu che tu capisci chi sei nel bene e nel male va bene però cosa succede che quando tu scegli di dire sì a qualcosa stai dicendo di no a qualcos'altro quindi stai dicendo sì alla felicità e no a quello che invece non ti rende felice nel momento in cui tu dici sì sai esattamente anche che cosa non vuoi nella tua vita ok nel momento in cui sai esattamente che cosa non vuoi nella tua vita quando esci fuori dal tuo guscio di casa e incontri delle persone ok e hanno delle passioni sono in un determinato modo e tu sei un altro e lo sai bene non ti serve molto per capire che quelle persone non fanno per te non ti serve molto perché perché non sei approssimativa accogli dettagli sei meticolosa e tutto ok guardi attentamente ed è importante osservare è importante saper osservare se non se manca questo non prenderai tante 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 insomma dispiaceri ecco perché non hai visto qualcosa che potevi vedere se vuoi stare un po' più attenta ok quella confusione non ti permette di vedere bene le cose ok la confusione non ti fa notare quello che non va va bene quindi ah guardate happy tanto per dire almeno mi influenzo positivamente però no happy è una in realtà è una parola che per me è molto importante avevo anche una collanina io che però mi si è rovinata ma ho in programma qualcosa riguardo questa parola comunque direi che mi ha fatto un'ora sicura di live ok e sono molto contenta ok di tutte quelle che hanno partecipato dei commenti ringrazio tutti veramente quello che vi chiedo appunto è condividere condividere se condividete quello che viene detto se pensate anche voi che è importante l'ordine se pensate veramente che appunto il disordine sia un controproducente alla vostra vita che per voi non ha senso continuare a cercare le vostre cose in casa ma volete più tempo per voi più energia vorreste vivere la casa con più felicità con più serenità dobbiamo farlo dobbiamo farlo tutti insieme perché la condivisione come ho detto all'inizio anzi a metà della live è fondamentale ok la condivisione dobbiamo unirci ok se siamo soli con noi stessi non lo so non si va da nessuna parte ok come in tutto serve sostegno serve sostenerci e condividere tutto questo quindi se pensate questo condividete la live io sarò molto molto felice di vedere quante persone credono anche loro nell'ordine e nel desiderare una vita migliore ma soprattutto una vita dove loro hanno il controllo ok dove non devi essere tu a girare attorno alle tue cose alla tua casa ma dove tutto è in funzione di te dove tu sei una priorità se tu vuoi essere una priorità condividi questa live se tu vuoi che la vita ok tu vuoi il controllo sulla tua vita su quello che ti capita non vuoi essere in baglia delle eventi non vuoi pensare che un giorno o l'altro possa accaderti il mondo ok vuoi avere gestione dei tuoi soldi della tua vita delle tue relazioni del tuo benessere non avere distrazioni non avere ostacoli condividi la live e soprattutto se ti piace vedere queste live essere incontrato con me per me è un piacere quando voi mi commentate mi fate mi dite tutto quello che mi avete detto anche in questa live come Patrizia Sirenis Davide Carolina davvero grazie ragazzi grazie a tutti tutti quelli che hanno anche visto mettete la notifica mettete la notifica delle live questo per me è davvero bellissimo se ve lo fate perché per me è un piacere ovviamente creare un po' un gruppo ok quelle amiche che non ho mai avuto io ad esempio il gruppo sul gruppo di scelgo medico sempre voi siete le amiche che non ho mai avuto e con cui potevo parlare della mia passione più grande che è l'ordine e ogni volta quindi sono iper felice perché loro mi ascoltano è bellissimo no? questo quindi questa live termina qui sono molto contenta vi ringrazio ci vediamo domani ovviamente con un'altra live ormai un appuntamento quotidiano e niente vi aspetto sul videocorso gratis ok? che vi vedete ovviamente vedete che sbuco e di darvi di aiutarvi nel capire quanto è l'ordine importante nella vostra vita e di quanto sia facile risolverlo ok? ciao un abbraccio a tutti e grazie per essere state in diretta con me alla prossima domani ciao ciao ciao